Concentriamoci su Vanessa Ferrari, è il momento della trave, la Bigger ha ottenuto 15 e 300 è una delle possibili concorrenti, è partito l'esercizio di Vanessa Ferrari alla trave come è decisa, guarda, forza Vanessa, dai, dritta eh, su in alto, in alto, no! 0,80 di penalità, prescenite, attenzione! Sta procedendo comunque bene, purtroppo l'errore, l'avvitamento Guarda anche in questi collegamenti come è decisa Sì, sì, per esempio, ho lato la trave Leggerissimo il bilanciamento qua Non è comunque assolutamente persa la possibilità di una indaglia, per definire bene Vanessa Su in alto, dai! Brava, brava, brava! Brava! Ha avuto un momento di difficoltà iniziale Allora è caduta, ma è stata brava perché ha reagito Quell'errore, come vedete, è un salto difficilissimo Fa solo lei, il flick, poi il salto Con l'avvitamento era abbastanza precisa Troppo basse le spalle È arrivata con le spalle molto basse E...